Dobbiamo avere lo spirito di sempre, nel senso affrontarla con il migliore dei modi, sapendo che è una partita per loro, non dico da ultima spiaggia, ma quasi, mentre noi dobbiamo a tutti i costi ottenere una vittoria per tirarsi fuori definitivamente dalla lotta per la salvezza. Ho visto ragazzi molto determinati e concentrati, sono convinto che faremo una grandissima prestazione. Bisogna anche dire che il Cesena dentro casa è stato un avversario difficile per tantissime squadre, un avversario ossido in un campo sintetico che noi siamo meno abituati come tante altre squadre che ci vanno a giocare. Per quello ci sono delle situazioni da dover verificare, però io penso che l'aspetto più importante sia avere l'approccio giusto e l'atteggiamento giusto per tutta la gara. Qualche recupero ce l'abbiamo, anche se non sono nelle migliori condizioni. Abbiamo Versarico, stiamo votando Gazzola che non è ancora recuperato del tutto, però il fatto di aver recuperato un terzino di ruolo di questo sono molto felice. Ovviamente non avrà 90 minuti nelle gambe, ma cercheremo di sfruttarlo per il tempo che ha a disposizione. Io vorrei tornare anche un pochino indietro, però è ovvio, adesso dobbiamo pensare a quello che è stato l'ultimo periodo. Si guarda molto al presente, nel calcio c'è l'abitudine di guardare le prime partite e le ultime, che sono quelle importanti anche per i calciatori. Per quello mi auguro che i miei calciatori capiscono anche questo, che è fondamentale fare un grandissimo finale di stagione, però sapete benissimo che la gara più importante in questo momento è quella di Cesena, che è la prima, di conseguenza poi verrà tutto il resto. Per potersi permettere tre attaccanti, il Sassuolo deve chiedere al loro grandissimo sacrificio ed è quello che hanno fatto per gran parte della stagione. A volte inconsciamente si può mollare la presa e questo non deve accadere. Faccio tanti esempi, io vedo Tevez rincorrere gli avversari fino all'area di rigore, gioca nella Juve e vincono tutte le partite. Un motivo c'è di crescita e devono prendere esempio da questi giocatori qua, vedere Tony in dieci uomini rincorrere fino all'area di rigore suo, e il centrocampista avversario, questi sono i segnali di una squadra e di giocatori che vogliono maturare e diventare grandi.